New Sassosa, vittoria per 5 a 2, abbiamo Marco Sciuto, nuovo innesso da New Sassosa, Capita Scuderi ha scelto bene il suo portiere, che mi dici della tua prestazione? Siamo fortissimi, siamo forti di tutti. Ha vinto che è tuo fratello. Vinceremo sicuramente, dedico la vittoria ad Ario Sciuto. E' un po' di Ario Sciuto, adesso il fratello. Comunque ragazzi, niente da fare, aspettiamo l'Ardo Salles, diamo una mazzata. Però abbiamo visto che hai preso un gol dalla distanza oggi. Sì, ho preso un gol dalla distanza perché il pallone faceva schifo. Quindi reclami un po' sulla consistenza del pallone? Assolutamente sì, troppo mollo, come si dice, mollo. Abbastanza mollo. Perfetto ragazzi. Ci aspettiamo delle prestazioni positive. Molto fin. Sicuramente, sicuramente. E farò di tutto per noi, un nuovo innesso anche lui, Mirko Marino. Molto fin. E ciao, ma noi all'arango la squadra, Mirko. Tutto un po', molto bene, veramente. Signori, guardate il suo vestiario, oggi sembra Arlecchino. Molto fin. Da inquadrare. Comunque, clima goliardico per la News Assosa. Questo vuol dire che siete tutti contenti, ti trovate bene. E questo vuol dire che il gruppo va avanti bene. E PS? I due color li ho fatti fare per non demoralizzare i ragazzi. Vai, Paco. Grazie. Anche Modesto. Anche Modesto. Grazie mille. Grazie mille.